Terra Amara, come finisce la soap di Canale 5, Zulia resta vedova e chiude con l'amore. Le anteprime del finale della serie di Bitter Earth mostrano Zulia che affronta l'ennesima perdita che segnerà la sua vita per sempre. La donna Kukurova deve fare i conti con la morte del suo amato Hakan, ucciso da Betul. Ma rimasta vedova e sola, si dedica a fare del bene ai suoi figli e alla maggior parte dei poveri. Nella sua città, porre fine al loro amore eterno. Zulia è testimone della morte di suo marito nel finale di Bitter Earth la fine della soap è segnata dalla vendetta di Betul. Betul scatena tutta la sua rabbia contro Zulia e prepara un attacco che le costerà la vita. Betul si presenta a casa della donna con una pistola e subito spara, ma non colpisce Zulia. Hakan si sarebbe reso conto della gravità della situazione e avrebbe deciso di intervenire per evitare il peggio finché non sarebbe stato colpito direttamente da un proiettile. I medici si precipitano in ospedale e tentano di rianimarlo, ma Betul cerca di far perdere le sue tracce e fugge, morendo tra le braccia della sua amante. Per la signora Kuklova è stato un altro grande dolore. Zulia diventa vedova e arresta l'assassino di Hakan. Doveva dire addio per sempre all'uomo che la fece sorridere di nuovo e la convinse a risposarsi. A questo punto Zulia è certa che l'assassino di Hakan sarà assicurato alla giustizia. Betul e il suo complice Abdul Qadir verranno braccati in Siria, e Zulia e Fikre li troveranno e li riporteranno a Kukurawa, facendogli pagare l'amaro prezzo. Zulia cambia vita, si dedica ai figli e si chiude per sempre nell'amore la donna Kuklova. Che prova orgoglio e soddisfazione per aver giustiziato il suo amato, vive una svolta importante nella sua vita. E da questo momento in poi il suo amore finirà per sempre. Zulia ammette che non ha più intenzione di impegnarsi in una nuova relazione a testa alta. Dato il troppo dolore e la sofferenza che ha vissuto negli ultimi anni, dalla morte prematura di Ilmasa alla morte inaspettata del suo assassino Demir per mano di Hakan. La sua nuova vita si concentra esclusivamente nel compiere buone azioni per i poveri cittadini di Kukurova, anche grazie all'enorme eredità che Hakan le dà. Si concentrerà sui suoi figli, dedicando tutto il suo amore e la sua determinazione per dare loro amore. Il tuo tempo prezioso